Intanto grazie Aldo, Aldo Tortorella, partigiano, direttore dell'unità, dirigente parlamentare del Partito Comunista italiano, vicinissimo a Enrico Berlinguer. Oggi raccontiamo, a un secolo dalla nascita di Enrico, una storia che sta affascinando ancora oggi intere generazioni, è singolare, questo viene raccontato poco dai grandi media, che il sito enricoberlinguer.it è un sito gestito da giovani e ha migliaia e migliaia di contatti quotidiani, è una pagina Facebook molto seguita. Enrico Berlinguer quanto parla alle giovani generazioni e quanto si corre un rischio che in questi anni è stato evidente, palese, una sorta di canonizzazione della figura di Berlinguer, quasi un santino da esibire ma buono per tutti gli usi. Invece Berlinguer era un uomo del suo tempo, immerso nel suo tempo ma con una grande capacità di avere uno sguardo del futuro, ma un uomo di parte, un comunista italiano, un uomo della sinistra, un uomo del pensiero critico. A te, Aldo. Il fatto che la canonizzazione del rischio esiste, però è anche una prova della capacità di Berlinguer di esprimere dei valori, chiamiamoli universali, perché naturalmente per esempio il fatto che la politica non possa essere digiunta, se non con un pessimo macchiavellismo che non ha niente a che fare con Macchiavelli, dai valori che essa esprime e che esprimono i suoi soggetti, i partiti, le formazioni politiche, gli eletti, eccetera, questo è qualche cosa che rimane nel tempo assolutamente e che dentro nella testa delle persone, quando si dice che la politica è sporca, naturalmente c'è una censura verso la politica, ma anche una richiesta che la politica sia pulita. Berlinguer incarnava gli occhi, diciamo così, come si è visto quando c'è stato il suo funerale, il più grande funerale, diciamo mai, per un uomo politico che non è mai registrato, ma anche per un uomo politico di arte, eccetera, beh, questo valore è un valore universalmente riconosciuto e non praticato, nella figura di Berlinguer questo appare in modo cristallino, Berlinguer era come sembrava proprio, quindi non è che la gente si sbagliava. Naturalmente questa canonizzazione dipende anche da un'altra cosa, e cioè che la sinistra non solo non l'ha rivendicato per tutto un lungo periodo, ma addirittura ha pensato che dovesse essere dimenticato, è stato scritto un libro, Dimenticare Berlinguer e da una evidente persona di sinistra. Quindi questa mancata, vi chiamo, dei partiti e vedi del Partito Comunista Italiano, cioè il Partito Democratico della Sinistra, i Democratici Sinistra, poi il Partito Democratico, insomma, il Bhagavati, via via ci sono sempre di più, hanno sempre di più cercato di allontanarsi, perché è passo che quella posizione, quella che in effetti Berlinguer esprimiva, fosse una posizione come minimo troppo rigida o addirittura appartenente a un'epoca preistorica, e quindi la modernità sarebbe stata il contrario di Berlinguer. La mia opinione ovviamente non è questa, e secondo me proprio il fatto di aver trascurato l'insegnamento modernissimo, attualissimo di Berlinguer è stata una delle cause del progressivo impoverimento della sinistra che ha perso una larissima parte del proprio popolo. Andiamo su un'altra questione che mi sembra molto attuale e anche qui assistiamo a una sorta di divisezione del pensiero berlingueriano. Prendiamo quello che ci piace, quello che non ci piace, perché è considerato eccessivamente antimoderno, o eccessivamente visionario, o eccessivamente ideologico, va in qualche modo cancellato. C'è una discussione su un primo e un secondo Berlinguer, un Berlinguer che istruisce dopo il colpo di Stato in Cile, con i tre articoli rinascita, la strategia del compromesso storico, il dialogo con i cattolici, che è dentro anche il percorso del partito nuovo togliattiano. E da lì dunque un Berlinguer ragionevole, diciamo così, nella letteratura mainstream, utilizzando un termine in voga oggi, e poi un secondo Berlinguer che si allontana, diciamo, progressivamente da questo disegno, quasi catturato dall'estremismo, sceglie la strada dell'alternativa democratica e si collega alle nuove esigenze che pure emergevano, penso al pensiero femminista, pensiero ambientalista, penso alla grande questione della pace e della guerra, su cui torneremo dopo. C'è un primo e un secondo Berlinguer? Si può utilizzare, diciamo, questo schema di ragionamento? Oppure c'è oggettivamente un adattamento di linea rispetto a una situazione che era cambiata dopo l'omicidio Moro, ad opera le Brigate Rosse e dopo che si era consumata definitivamente la solidarietà nazionale ed era sempre più evidente la degenerazione del pentapartito? Dunque, secondo me esiste una differenza di linea, diciamo, chiarissima, ecco, diciamo, che abbranza gli occhi. Naturalmente lo sforzo del compromesso storico non è quello che poi si realizza con la solidarietà nazionale, cioè col governo in cui metà del Parlamento si asteneva per fare. Quella esperienza del compromesso storico che a un certo punto sarà non abbandonata, diciamo, dichiarata inagibile dallo stesso Berlinguer, perché a un certo punto di dirà Berlinguer, non userò più questa parola perché si confonde con qualcosa che non riguarda. Il compromesso storico è il tentativo di una riforma dell'Italia, di una riforma dei mari storici, nord e sud, la questione vaticana, eccetera, tutte queste che nel gergo, nel linguaggio del partito comunista si chiamavano le contraddizioni storiche, diciamo, che purtroppo non sono state mai sanate completamente e che in grande misura vivono ancora oggi. Ma questo tentativo pensava alla democrazia cristiana come conquistata dalla linea di Moro. Invece così non era, insomma, così non era e quindi, ma soprattutto si scontrava con una sordità totale delle forze egemoni, diciamo, nel mondo. L'Italia era un paese a democrazia controllata e la convenzione per escludere i comunisti al governo non entrava perché erano poco democratici, ma perché erano troppo, perché erano troppo. Kissinger ha detto che sono più pericolosi proprio perché sono così, perché avrebbero potuto far avanzare un'idea, diciamo, di una sia pure graduale trasformazione che, per esempio, la socialdemocrazia non praticava più. Anche se proprio negli anni di Berriguerre, nella socialdemocrazia, con queste tre grandi figure, cioè di Brandt, di Palme e di Kreisky in Austria, si comincia a riflettere sul fatto che, insomma, se non si modifica un po' questo sistema più nel profondo, eccetera, le cose non vanno bene, vanno male. Per la stessa questione morale, nel carteggio tra queste tre persone si vede una chiarezza che viene sollevata anche da loro. Quindi questo compromesso storico voleva essere questa piattaforma di trasformazione del paese. Quando si va poi alla politica concreta, non bisogna mai dimenticare che una settimana dopo l'elezione i quattro paesi maggiori dell'Alleanza Atlantica si riuniscono separati fra di loro e per dichiarare, cioè la Francia, la Germania, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, per dichiarare che se i comunisti fossero andati al governo l'Italia perdeva tutte le sue agevolazioni economiche, eccetera, all'interno del mondo occidentale. Fu questo che determinò in realtà va in possibilità di formare un governo, perché i socialisti non erano più disposti a fare un governo senza il partito comunista, senza che il partito comunista fosse coinvolto nelle responsabilità di governo. Si avviva così a quella condizione infelice e quando poi si riesce a formare una maggioranza sulla carta, e quindi non con la partecipazione dei comunisti nel governo, sempre con un governo di soli democratici cristiani, il governo viene rapito e poi è ammazzato. Questa è stata una lezione durissima, perché naturalmente come tutte le forze razionali e capaci non eseguono essi per stessi, questo fu un delitto fatto con mani di persone che ritenevano di fare così la rivoluzione addirittura. Certamente alcuni di loro erano convinti di questo fatto, perché l'alleanza tra il partito comunista e la democrazia cristiana erano convinti che fosse segno della degenerazione del partito comunista. Tale era l'insegnamento e tale quindi fu la scelta di ammazzare Momo. Dopo questa esperienza ciò che avviene nella mente di Berlinguer non è un radicale spostamento, ma è una convenzione ulteriore. E cioè che la situazione è tale da esigere una forza di sinistra che fosse per ciò stesso, per il suo programma, per le sue volontà, capace anche di trasformare le altre forze. Viene alla luce il fatto che la democrazia cristiana non era mai cambiata. Morto moro la democrazia cristiana rapidamente, anche per le influenze internazionali, rapidamente torna ad essere un partito come era sempre stato, diciamo, moderato, conservatore che secondo De Gasperi guardava a sinistra, ma secondo i suoi successori non guardava più a sinistra, guardava piuttosto da un'altra parte. Quindi l'idea di una sinistra nuova, fondata su contenuti nuovi, questa idea non smette di pensare che ci deve essere un coinvolgimento delle masse orientate dalla Chiesa cattolica, dai sentimenti cattolici. Onestamente, questa idea non viene mai dismessa da Berlinguer, ma si trasforma in altro e questo altro, che è l'ultimo Berlinguer, è il Berlinguer che vede che lo stesso programma del partito con cui si era partecipato in qualche modo, informale all'esperienza del governo, era una piattaforma fragile, debole, incapace di influire veramente sulle altre forze. Questo era il punto fondamentale. L'alternativa è questo, cioè un partito nuovo, relativamente parlando, diciamo, non in memo per le sue origini naturalmente, ma ecco perché tra l'altro con più nettezza viene respinto il modello sovietico, che era già stato respinto da tempo, ma con più nettezza ancora viene respinto il modello sovietico, tanto che si scatena una polemica e addirittura un tentativo di assassino nei confronti di Berlinguer da quella parte e si pensa a contenuti nuovi del programma fondamentale del partito. Naturalmente non si può rinforare Berlinguer di non avere formalizzato questo perché naturalmente, però in parte sì, la carta della pace e dello sviluppo, come possiamo poi eventualmente ne possiamo discutere da parte, ma la carta della pace e sviluppo è già un programma diverso, vero? Perché tiene conto della situazione globale, cioè tiene conto del fatto che si può andare avanti con i vecchissimi ai poverissimi e con uno sviluppo distorto, profondamente distorto, che porta a betti a vischio la sopravvivenza, non della terra che continua a girare intorno al sole per altri 4 miliardi di anni o non so quanti, ma della specie umana, è vero che è. Quindi questo è poi il problema, secondo Berlinguer, quello che tu hai ricordato, l'ecologismo, il femminismo della differenza, sono grandi scoperte teoriche che erano venute fuori, fuori della tradizione comunista e socialista, anche se il partito comunista o lo stesso partito socialista avevano degli accenni, però in realtà il movimento ecologista in un primo momento viene respinto addirittura perché può mettere a rischio lo sviluppo, eccetera. Quindi un partito ecologista che capisse il nuovo femminismo, il nuovo femminismo aveva che il capitalismo si iscrive nel patriarcato e non diversamente, non è il patriarcato che segue ma precede e quindi il fatto che molti dei fenomeni tradizionali, per dire anche la tendenza alla competitività esasperata e fino alla guerra, è vero, sono frutto anche di una ideologia del maschile come valore assoluto, del maschile inteso come forza, come vittoria del più forte, eccetera, eccetera. Quindi avevano delle rivoluzioni di pensiero come lo stesso pensiero ecologista che metteva in discussione in sostanza il modello dello sviluppo. Allora, io riallacciandomi alle ultime considerazioni che facevi, vorrei provare ad approfondire il tema della democrazia. Tu raccontavi la fase di allontanamento sempre più forte, sempre più radicale di Berlinguer dall'Unione Sovietica, del PC dall'Unione Sovietica fino all'interruzione anche dei flussi finanziari che pure arrivavano da Mosca fino a un certo punto. Fu un atto di grande coraggio del gruppo dirigente? Fino all'elezione di Berlinguer era segretario, quando diventa segretario interrompe questa faccenda che era un segreto che si trasmetteva da segretario a segretario e da amministratore a amministratore, di cui non era corrente neanche la segreteria del partito, neanche la direzione del partito, per meno che mai il Comitato Centrale. È una specie di residuo del soccorso rosso, si chiamava così, durante il tempo del fascismo eccetera, il soccorso rosso serviva a mantenere in vita le famiglie di quelli che andavano in galera eccetera. e quindi lui va a un certo punto a Mosca nel 77, l'anniversario della rivoluzione d'ottobre e pronuncia un discorso che fa storia, che introduce una rottura forse definitiva quando parla della democrazia universale. Venendo all'oggi, oggi noi siamo di fronte a quella che potremmo definire una crisi delle democrazie liberali. C'è un rafforzamento di pensieri autoritari e anche di una delega sempre più forte all'ideologia del capo. I sistemi democratici si verticalizzano sempre di più, i corpi intermedi si indeboliscono e la democrazia è in affanno. Qualcuno attribuisce la crisi e la democrazia al nazionalismo che riprende. Io credo che sia più che altro il nazionalismo una conseguenza di una crisi della democrazia che non garantisce più uguaglianza, pari opportunità, ascensore sociale, possibilità di crescita, soprattutto delle generazioni più giovani. Quanto il tema della democrazia universale oggi si può ancora declinare e quanto, diciamola così, la parola democrazia senza un contenuto sociale non rischia di essere semplicemente una vocazione vuota, retorica. Come è retorico… Adesso questa tua domanda è molto complicata, diciamo, quindi chiederebbe una sessione apposita di un corso, eccetera, molto lungo, perché ci sono tanti argomenti, ma insomma per dire in breve la democrazia come valore universale che è la proclamazione di Berlinguer e che fa dire a tutti, meno che allo stato profondo, al Deep State degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra e poi a Cova della Germania, della Francia, eccetera, che i comunisti italiani sono una forza democratica sincera, vero? Tutti lo capiscono, lo dice in Italia, lo dice proprio a parole chiave, la malfa, che dice, ma insomma, i comunisti hanno fatto un passo gigantesco, diciamo così, è come per dire che noi stessi dobbiamo rifletterci, ecco. In realtà la parola democrazia è tipica del partito comunista italiano, perché la grande svolta di Togliatti, si parla della svolta di Salerno, quella è una svolta tattica, no? Perché bisognava combattere i tedeschi e quindi per combattere i tedesci stiamo tutti uniti e rinviamo la questione monarchica al popolo dopo, quando ci sarà la liberazione. Questa è una svolta tattica anche con un grande significato politico, naturalmente, perché stabiliva l'idea della unità nazionale nei confronti del pericolo maggiore. Però la grande svolta di Togliatti, dal punto di vista teorico, è la sottiduzione della democrazia progressiva alla dittatura del proletariato. Ecco, questo è, tant'è che molti vecchi compagni, insomma, pur essendo disminatissimi, traballarono, traballarono, traballarono molto, cos'è questa democrazia progressiva, eccetera. In realtà era quello che poi, a certa misura, si è manifestato nella Costituzione, dove l'incontro che egregiava l'idea della unità nazionale tra le idee fondamentali del movimento cristiano, cristiano sociale soprattutto, con Dossetti, eccetera, del pensiero socialista e comunista, diciamo, comunista delle origini, non sovietico, ecco, e l'idea del liberalismo classico che ha avuto, i suoi grandi meviti, nella Costituzione della formalità democratica a cui non si può mai rinunciare, le habeas corpus, eccetera, ecco, quindi lo Stato di diritto e così via, ecco, bisogna vedere chi lo stabilisce, questo è il diritto, ma questa è un'altra questione, la formalità della democrazia non può essere mai dimenticata. Quindi il fatto che si uniscano queste correnti crea una Costituzione che è il programma di una democrazia progressiva, se non si vovesse leggere in questo senso e non in senso schematico. Benissimo, quindi il passo che fa Berlinguev è un passo, diciamo, che contiene un elemento polemico e anche un elemento nuovo, perché l'elemento polemico è nei fronti dell'Unione Sovietica, che anche qui è cheggio al passo di Togliatti, che però era veramente metodologico, noi abbiamo sempre pensato, dice Togliatti, al socialismo come la massima espressione della democrazia, non un'altra cosa. E allora, suppoggiando su questa radice, diciamo, anche perché la parola d'ordine lavoratore di tutto il mondo uniteri, già dalla prima guerra mondiale, che era una parola d'ordine universalistica, dato che anche le idee religiose vero avevano spaccato il mondo, non unificato. Se si pensa bene, una parola d'ordine universalistica laica, laica, necessariamente laica, date le idee, aspre divisioni religiose, spinte sino alle guerre di religione, interde addirittura l'Europa, ma poi tra i cristiani e i non cristiani, eccetera. E' vero, la prima parola d'ordine, diciamo, universalistica è quella di lavoratori di tutto il mondo uniteri, serve infanta già nella prima guerra mondiale. Qual è la parola l'ordine nuova che potrebbe sostituire? Berlinguer pensa la democrazia come valore universale. Naturalmente quando Berlinguer dice democrazia, pensa alla democrazia vera, non soltanto alla sua forma esteriore. Tant'è che nella Costituzione italiana si dice bene che questa poi possibilità di arrivare a un'eguaglianza vera dei diritti di incidere sulla politica della propria nazione, in questo caso deve superare certi ostacoli economici e sociali. Quindi pensa alla democrazia come era affermata anche nella Costituzione italiana, cioè una democrazia che ha in sé la capacità, ecco la democrazia valore universale, altrimenti non è democrazia, una democrazia che ha quindi delle premesse, le premesse fondamentali della democrazia sono la formazione e l'informazione, la capacità di decrittare il mondo, se no la scelta su che base avviene, se tu sei preda diciamo per mancanza di capacità di qualche volta persino di lettura materiale oppure di mancanza di capacità fordita da una cultura forte, robusta eccetera e quindi la formazione è l'informazione. Noi oggi non è che viviamo nella democrazia come è stato giustamente scritto da uno scrittore trovato di lingua inglese, diciamo, ecco, noi viviamo nella post-democrazia, cioè una democrazia che è affidata alla formazione dell'opinione ai mezzi di informazione e di informazione di massa, insomma, no? Si vede in questa guerra è la stessa, insomma, cioè noi sappiamo quello che ci vogliono far sapere, non sappiamo quello che non ci vogliono far sapere, ecco, coloro i quali dirigono, diciamo, e hanno nelle mani il sistema informativo mondiale. Già a quei tempi lontani le agenzie di stampa da cui si ricavavano tutte le notizie erano agenzie, una inglese e un'americana, la Voitem è la società espressa. Già dei tempi lontani, quindi questo si è via via, è evoluto naturalmente e la questione va vista mescolandola con la questione del digitale, perché adesso questo problema del digitale ha complicato, ma non trasformato le cose, ecco, perché bisogna fare attenzione che il digitale, cioè la capacità di ciascuno di farsi centro di formazione, è condizionato da quello che ciascuno che si mette lì davanti è, quindi dalla sua formazione progressa, ecco. Quindi la democrazia come valore universale si intende dentro, non so il cervello, ma dentro la pratica politica di Berbinguer come, diciamo, al minimo come inteso dalla Costituzione italiana, il che naturalmente non è di tutte le Costituzioni, perché quel famoso articolo 3 è considerato un'aberrazione da parte di tanti sistemi liberali democratici. Infatti non è un caso che durante la fase più acuta e la crisi post fallimento le Lehman Brothers, alcune grandi agenzie internazionali, posero il tema delle Costituzioni nate dall'antifascismo, che andavano modificate perché erano poco adattabili, diciamo, alle regole dell'austerità e del mercato. Sì, ma poi c'è stata tutta la fase in cui la democrazia è stata considerata un sistema, diciamo così, impraticabile, ecco perché è venuta poi la post-democrazia, perché comporta un eccesso di domanda. Quindi l'eccesso di domanda non è tollevabile da un sistema economico. Non gli è venuto in mente a quelli che dicevano questo, che l'eccesso di domanda dipende dall'eccesso di sproporzione tra la ricchezza e la povertà, perché naturalmente non solo, ma dall'esempio che danno i possessori della ricchezza, perché se uno, compreso un oligarca russo, si può portare o si può comprare un oriotto di 130 metri e un altro manca una brachettina piccola 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 piccola. E' questo che determina l'eccesso di domanda. Infatti, volevo planare un momento sulla grande questione pace-guerra che abbiamo toccato in tutta questa conversazione. Tu citavi prima la carta per la pace e lo sviluppo. Mi viene in mente un altro discorso magnifico di Berlinguer sulla Rocca d'Assisi nel 1983, dove evoca la follia di Francesco. Sembra riecheggiare un po' l'alfabeto dell'attuale Papa. Sembrano quasi sovrapponibili i due discorsi. Cosa voglio provare a dire? La guerra torna a dividere la sinistra. Da un lato un rigurgito neoatlantista, un po' scolastico e secondo me sbagliato, dall'altro un riflesso condizionato altrettanto sbagliato e grave quasi a giustificare Putin come un erede dei fasti dell'Unione Sovietica. Le vittime, il movimento per la pace e l'Europa come dimensione politica e come potenza diplomatica. Ed è quello che stiamo vedendo in questi giorni. Eppure in quel periodo già Berlinguer, quando si trova ad affrontare la crisi degli euromissili, si collega al pensiero più vivo della socialdemocrazia. Tu citavi Palme, Brandt, Kreisky. La stessa carta della pace e dello sviluppo è figlia al rapporto nord-sud della commissione Brandt. Comincia a emergere il tema gigantesco della redistribuzione delle ricchezze, un anticipo quasi dei movimenti altremondialisti che vent'anni dopo si sarebbero affacciati. Cosa voglio dire? Come se ne esce se non con un ritorno di un'idea di un governo comunque mondiale, di una pace come politica e non come semplice vocazione etica. La critica viene fatta ai pacifisti, ma voi siete eticisti, moralisti. Invece la pace è una politica, è il tentativo di prevenire i conflitti, è il tentativo di far usare la leva diplomatica, di ridurre le sproporzioni e le diseguaglianze. Si può lasciare tutto questo in mano alla profezia del Papa e non immaginare che da qualche parte può rinascere un pensiero critico della sinistra, del socialismo che rimette al centro questo tema? Ok, lì ne ho chiamato prima tu, diciamo che va di mezzo alla questione del nazionalismo naturalmente, nelle derive che si vedono adesso a proposito della guerra di aggressione, ovviamente della Russia nei confronti dell'Ucraina, si vede la tragedia determinata dal nazionalismo, in questo caso del nazionalismo russo, ma anche dagli altri nazionalismi, che sono in vera conseguenza, tu dicevi, della crisi della democrazia e naturalmente però bisogna dire la verità, anche dalla crisi del modello di globalizzazione imposto dalle grandi concentrazioni economiche e finanziarie, perché quando risorge il nazionalismo negli Stati Uniti la base popolare è ben preparata perché lo spostamento dei capitali americani in Cina e la produzione con una mano d'opera che costava un decimo della mano d'opera americana, getta sull'astrico, incomincia negli Stati Uniti da tempo il fenomeno dei lavoratori poveri, la canzone di Arnold, che lui voleva soltanto un lavoro, una famigliola eccetera, e questo sarebbe stato molto bello, il lavoro non ce l'avevano più spesso e se ce l'avevano, incominciava a tronare il loro prezzo per la concorrenza del lavoro mal pagato, naturalmente o più che mal pagato, quindi il nazionalismo risorge perché la globalizzazione capitalistica offende ovviamente, avvicchisce enormemente, diciamo, fino a circa inaudite i padroni dell'economia, ma imporrisce grandi masse nell'Occidente, è vero? Naturalmente risolleva anche un po' una parte almeno del mondo del sottosviluppo eccetera, ma però contemporaneamente ha questi altri effetti, rinasce il nazionalismo, il nazionalismo russo però, rinasce anche per un altro effetto, non solo perché, non dimentichiamo che la Russia riesce ad avere il prodotto del 1991 dopo la bellezza di quasi 20 anni, è vero, di tornare a quel prodotto interno del 91 che non garantiva tutti ovviamente, non dico il benessere, ma qualche volta neanche l'uscita dall'indigenza, ecco, quindi è stata una tragedia di proporzioni inaudite per grandi masse popolari, fino al fatto che i pensionati andavano a svolinare, a restare nella spazzatura eccetera, quindi una tragedia di quel genere e unitamente al fatto che, questo l'ha detto Giuliano Amato, ecco, io, diciamo, mi parla che è quasi l'unico che ha detto, è stata una sconfitta nell'Occidente questa guerra, perché la Nato ha continuato a considerare la Russia nata dopo il crollo del sistema sovietico come se fosse ancora l'Unione Sovietica, una Russia che era ormai ridotta come era ridotta, invece di essere aiutata a risolevarsi e a trasformarsi, tra l'altro la gente ha dimenticato che Yevzin, che era, diciamo, l'uomo di fiducia degli Stati Uniti, ha conquistato il potere bombardando il Parlamento, vero? 1993, sì, 180 morti, poverini, ignorati da tutti, ignorati dal regime russo, ignorati dai sistemi democratici, vero? Quindi pochi, non tantissimi sono 180 rispetto ai macelli a cui assistiamo adesso, però, insomma, è l'ovigine che conta. Quindi questo nazionalismo russo ha una causa economica come in tanti altri paesi e poi ha anche una causa di un paese che si sa, enorme, uno dei più grandi paesi del mondo, diciamo formalmente parlando, anche se è un nano economico, ecco, che ha l'orgoglio di essere stato uno dei vincitori, se non il principale, è vero? Comunque il principale almeno per il numero di morti della Seconda Guerra Mondiale, eccetera, che si vede sempre più incalzato, ristretto, eccetera. Questo non giustifica Putin, naturalmente, perché Putin ha detto adesso che la sua difensiva dice mi hanno costretto, ma proprio perché ti hanno costretto non dovevi farlo, eh sì, che ragionamenti sono, eh? Mi hanno costretto, se ti hanno costretto cerca di evitare la costrizione, no? Ecco, quindi c'è proprio una... ingiustificabile questa aggressione, da ogni punto di vista, naturalmente prima di tutto dal punto di vista del diritto internazionale. la questione che tu poni, cioè la questione, appunto, che pone anche la questione non utopica, ma come quasi necessitata la visione di Berlinguer, della Carta della Pace e del Riluppo di una... di un governo mondiale, naturalmente può essere vista da tante parti, perché gli Stati Uniti dell'America, lo vedono il governo mondiale, pensano al millennio americano, non al secolo americano, nel senso che dicono noi siamo la forza principale, ma non solo, siamo quella che ha i valori fondamentalmente giusti, vero, perché certo ci sono quelli con le armi che ammazzano, eccetera, ci sono i suprematisti, ma noi non siamo suprematisti, noi siamo democratici, noi siamo per la libertà, la libertà, parola complessa, perché c'è tanti modi di leggere questa libertà, vero, così come c'è tanti modi di leggere la pace, perché noi della nostra civiltà, vero, della nostra civiltà bianca vincente, perché bisogna dire purtroppo queste parole, è vero, bianca è cristiana vincente, l'autocritica del Papa è fondamentale, ma è un'autocritica, perché insomma, perché altre religioni si sono affermate, perché con l'accroccio si andava a conquistare, quindi questo generava naturalmente, benissimo, quindi questa pace noi abbiamo concepita e la concepiamo come pausa tra le guerre, non possiamo neanche pensare a un mondo di pace, ecco, se in realtà il debito che noi abbiamo verso i pacifisti, quelli classici, che sono di origine talvolta anche religiosa, ma non sempre, il debito che abbiamo è che hanno, ci hanno invitato a pensare che cosa potrebbe essere un mondo di pace, noi la conosciamo soltanto, diciamo, tra una guerra e l'altra si sta in pace, però la guerra, il motto prepara la guerra se vuoi la pace, preparando la guerra abbiamo sempre fatto la guerra, ovviamente, preparare la pace, non esiste neanche la parola preparare la pace, molto popolare, la pace, la pace universale viene considerata una roba noiosa, perché poi dice, vabbè hai questi giovani che si fanno così perché non c'è la guerra, se ci fosse la guerra si calmano, eccetera, tutti questi luoghi comuni che sono i derivati del fatto che la nostra vincente civiltà è una civiltà di guerra, tra di noi stessi, ma tanto più verso gli altri, abbiamo sempre pensato che portavamo la civiltà, che non danneggia il pensiero cattolico, ricordiamo che è stato un pensatore cattolico spagnolo, un sacerdote che ha incominciato a dire, guardate che questi non sono animali, sono uomini come noi, anche questi non hanno la fede cristiana, li hanno convertiti poi tutti, ma a parte, però questo famoso scrittore intellettuale, prete, sacerdote cattolico, eccetera, spagnolo, ha insegnato vero che anche gli indigeni. Posso farti una domanda, un po' scendo fuori dal seminato, rispetto alla tua biografia, tu sei stato partigiano? Sì, certo. E ovviamente in questa discussione che io trovo molto al di sotto del necessario di queste settimane sulla guerra in Ucraina, nello scontro costruito contro i pacifisti, dove si dimentica sempre una cosa, che gli amici di Putin stanno da un'altra parte, cioè noi abbiamo un paese dove, insomma, Berlusconi si scambiava i letti con Putin, la Meloni ha sostenuto che Putin era uno degli esponenti principali dei valori universali cristiani, Salvini andava in giro con le magliette, le felpe, con la faccia di Putin, oltre che prendersi qualcosa di più di un caffè a Mosca, diciamo così. Il problema in Italia sono i pacifisti, eppure c'è una domanda che almeno a me interroga e che ovviamente esiste, lì c'è una resistenza, c'è un popolo che resiste a un'invasione, come dicevi tu. Come si aiuta una resistenza? E rispetto anche alla tua storia, alla tua esperienza, è chiaro che il tema che potenze democratiche o forze che da fuori aiutano a riequilibrare lo scontro, le forze davanti a un aggressore, se fanno fino in fondo il loro dovere, cioè io interpreto il tema delle armi all'Ucraina come un modo di riequilibrare il negoziato, non per allungare la guerra sine die. Insomma, è un dibattito complicato, interroga la coscienza, mi interessava sentire la tua opinione. Ma no, diciamo, lì c'è anche il parallelo tra l'esistenza ucraina e la nostra, ci sono elementi di simiglianza, ma ci sono anche differenze enormi che non possono essere ignorate. L'elemento di simiglianza è il fatto che anche tra i combattenti dell'Ucraina, mi sembra persone più semplici, naturalmente che impugnano le armi per la difesa dell'Europaese, c'è un sentimento molto simile a quello che anche tra di noi c'era nei confronti dei tedeschi che occupavano. La nostra resistenza però era anche una resistenza, diciamo così, motivata idealmente perché era appunto per una democrazia progressiva, se per noi, o una democrazia liberale, eccetera, è contro la dittatura fascista. Ora, i regimi, prima della guerra, i regimi ucraino e i regimi russo non erano diversi, erano regimi di capitalismo selvaggio, ecco, tanto perdiva un po' la buona, con qualche elemento di democraticità, ma qualche elemento venneva, ma insomma come hanno scritto ormai molti, si sa bene che gli oligarchi russi sono parenti degli oligarchi ucraini, vero? Credo che gli Stati Uniti dimentichino che questa ha molti aspetti di una sorta di guerra civile, perché i russi considerano gli ucraini parte della Russia e molti ucraini si sentono russi, più che sentirsi, ecco, perché ci sono queste, una parte dell'Ucraina, poi non era storicamente ucraina, diciamo, era polacca, ecco, almeno un pezzo, un altro pezzo. Leopoli. Sì, altri pezzi. A Galizia. Sì, sì, altri pezzi, insomma, cioè, Kiev è più vicino a, come si vede anche a quella che si chiama la Russia bianca, vero di quanto non si avvicina a Leopoli, ecco. Quindi, c'è una, nelle dichiarazioni stesse di Putin, per quanto strumentali esse siano, cioè, infatti si dice che gli è un vede dello zarismo, non dell'Unione Sovietica, anzi, attacca Lenin che ha dato l'indipendenza all'Ucraina. C'è la rivendicazione dell'Ucraina come parte della Russia. Ma non pensiamo semplicemente a Putin, pensiamo al cancelliere Schmidt, quando c'è, nel 2014 era ancora vivo, e lui dice, ma noi fino al 1990-91 abbiamo sempre pensato all'Ucraina come Russia. Ci sono parole di Schmidt, vero, in una intervista data a tutti i giornali del mondo e pubblicata anche in Italia, vero, ecco, da un quotidiano molto diffuso in Italia, eccetera. Quindi, questa, questi, nevamente, di coloro che hanno promosso c'è anche questo equivoco, diciamo, drammatico, che si tratta in fondo di una guerra civile, non la chiamano guerra, per questo la chiamano per azione, perché quello sarebbe terra russa. Così come gli ucraini dicono, no, questa non è più terra russa, questa, noi siamo indipendenti, perché siamo noi uno Stato con una nostra lingua, una nostra cultura. Anche se le due culture sono frammiste, molti scrittori russi sono di origine utraina, eccetera, e viceversa. Ecco, ecco, e quindi c'è questa questione fondamentale, ma come dicevamo prima il fatto di aiutare questa resistenza, non può essere scambiato con l'idea che questa guerra serve a noi dell'Occidente per dare un bel colpo alla Russia. Perché questa è un'idea sbagliata, perché questo si chiama di alimentare la guerra con il sangue degli altri, che noi stiamo spingendo gli ucraini a vincere, e poi saranno molto contenti di farlo, ma questo può portare anche tanti morti, e tante brutture spaventose che i russi compiono, eccetera, ecco, ma in una guerra fratricida, la pace in questi casi non può essere un compromesso. Fin dall'inizio bisognava sapere questo, cioè che se tu consideri per esempio intangibili i confini, non potrai fare un compromesso. Ed è ipocrita profondamente da parte della Nato che ha fatto una guerra per cambiare i confini della Serbia. Il Kosovo era sempre stato parte della Serbia. Egli è stato tolto, cioè fare uno stato autonomo. Adesso lasciamo stare le cose giuste e sbagliate, a parte che quelli del Kosovo sono dei dirigenti di quella guerra, dalla parte del Kosovo sono tutti a giudizio del Tribunale internazionale per i crimini di guerra, forse che per il traffico degli stupefacenti, eccetera. Ma lasciamo perdere questo. Comunque la Nato ha sostenuto come cosa giusta strappare un pezzo di Serbia alla Serbia, perché la maggioranza è albanese. Ma la maggioranza della... io non so come saranno poi le cose, ma la maggioranza di quel territorio confese è russa. Quindi perché non capire? Perché il problema è validare un colpo, cioè attivare un gruppo dirigente incapace, diciamo, perché adesso vengono definiti come criminali, macellari, eccetera, ma prima di essere criminali o macellari o quello che si vuole, sono degli incapaci. Ecco, un gruppo dirigente incapace perché privo di democraticità interna, di scontro interno, di un'opposizione valida, eccetera, per via di questo sistema autoritario, attivarlo a fare questo, che è qualcosa di più di un tragico e vorre, diciamo, è un vero crimine, attivarlo a caderci dentro, eccetera, e questo fa dimenticare che il compromesso era possibile. E se non si pensa a un compromesso, se si ragiona, come fa sempre il segretario della Nato, insomma, che è un funzionario agli ordini, chiaramente, degli Stati Uniti, perché sono gli Stati Uniti che dividono la Nato per statuto, diciamo, che non ci potrà mai fare nessun confermesso, perché i confini sono sacchi e inviolabili, i confini sono sacchi e inviolabili se si è capaci di fare, adesso non per diventare la democrazia italiana, ma la democrazia italiana ha risolto un conflitto nazionale in alto adige, in modo molto meritorio, per contributo di tutte le forze, perché c'è stata sia la maggioranza che l'opposizione, che hanno convenuto che lo statuto di autonomia dell'alto adige fosse tale da poter consentire a una minoranza nazionale di autorevinarsi. Di questo si è trattato in alto adige, ma quello che era stato stabilito negli accordi di Minsk non è mai stato attuale. Tra l'altro il trattato dell'alto adige ha rilevanza internazionale, un vero e proprio trattato internazionale. Sì, è stato merito dell'Italia, ma anche dell'Ausria, anche lì è vanato un movimento separatista, violento, eccetera, con tanti morti e così via, attentati e così via dicendo. Ma come lo si è affrontato? Lo si è affrontato discutendo con l'altra parte, perché il trattato internazionale, l'autonomia dell'alto adige, come ricordavi, è stato il frutto di un rapporto tra l'Italia e l'Ausria. Quindi bisogna non fomentare la verità, la verità è che è stato fomentato, perché poi adesso il risultato è tutto positivo per gli Stati Uniti, tutto positivo per la Nato, perché la Russia si è dimostrata un paese aggressore e quindi ecco la Finlandia, ecco la Svezia, addirittura, eccetera, e così via dicendo. E il problema è di dargli il corpo, ma costano vedere quelli lì, dei poveri lì. Con i rischi oggettivi, perché dire vinciamo la guerra contro una potenza nucleare… Sì, tra l'altro comporta dei pericoli estremidi, perché poi essendoci lì un sistema autocratico, è vero, persino il cagnolino si arrabbia lì. Allora andiamo all'ultima domanda e ti ringrazio per questa bellissima conversazione che pubblicheremo sul nostro sito nazionale, articolo 1. Voglio ritornare a Berlinguer e chiudere. Molti hanno scritto che il PC finisce con la morte di Enrico Berlinguer, o comunque una certa idea di PC. Tu hai scritto tante volte che il PC ha avuto tante vite, ha fatto tante cose. Quello del 21 di Livorno non è la stessa cosa delle tesi di Lioni e Gramsci, quello è la clandestinità, non è il partito nuovo i togliatti, eccetera. E però tuttavia è chiaro che la morte di Berlinguer chiude un'epoca e la chiude in una fase dove lo scontro politico era arrivato a un livello enorme. Berlinguer che da Scalfari denuncia la questione morale, che non è le manette, ma è un'idea di autoriforma della politica. Berlinguer che ingaggia l'ultima battaglia contro il decreto di San Valentino che supera la scala mobile, fatto da un presidente del Consiglio Socialista, quindi da un partito fratello. Dunque Berlinguer muore nel pieno di uno scontro politico, dopo cambieranno tante cose, il PC verrà superato dalla svolta, eccetera. E però c'è un nodo. Oggi la sinistra politica è debolissima, per certi aspetti è in disarmo, è divisa, frantumata, ci sono tante formazioni politiche, ma non è questo il punto, è un tema europeo, non semplicemente italiano. La domanda è, siccome il conflitto sociale non è finito, esso addirittura si somma con nuove forme di conflitto, conflitto ambientale innanzitutto, la grande questione posta soprattutto alle giovani generazioni, la questione del governo, della trasparenza e della democraticità dei dati e quindi la democrazia digitale come frontiera, da dove può spuntare una sinistra che riesca a riporre il tema di un pensiero critico in grado di riformare, di cambiare profondamente il sistema economico e finanziario. Naturalmente il limite del Partito Comunista Italiano è che era italiano, quindi questo è il primo problema. Il Partito Comunista Italiano è nato nel tempo dell'esistenza degli Stati Nazioni, i quali Stati di Nazioni esistono, tant'è vero che rinasce il nazionalismo, ma nello stesso tempo perdono potere e sovranità, ovviamente, non solo perché rinunciano una parte di sovranità per istituzioni sovranazionali, ma perché ovviamente l'economia non è più di vetta in sede nazionale, ovviamente, ecco, il prezzo del petrolio, il prezzo dell'energia, il prezzo dell'acciaio, insomma, sono tutte cose che non riguardano più un paese, ecco. Già Eva, al tempo di Mussolini, questa faccenda dell'autarchia, ha gettato nella vetratezza un paese, ma ancora di più adesso, quindi il limite del Partito Comunista Italiano, tant'è che ebbe in guerra, cercò di fare l'eurocomunismo, aveva fallito soprattutto per l'influenza sovietica su altri partiti comunisti, che in un primo tempo avevano cercato anche loro di questa via. Quindi il primo problema è questo, diciamo, che il Partito Comunista Italiano è stato molto forte, pur in un tempo di democrazia sorvegliata, dimediata, ecco, però addirittura è stato molto forte, scegliendo una strada adatta alla nazione, pensando a una strada, ecco, ora una difesa della sinistra deve avvenire sul livello europeo, diciamo, non è pensabile che la situazione della Francia è tipica, ecco. Per certi aspetti l'unico paese in cui si sono conservate delle forze di orientamento socialista sono la Germania e l'Austria, dove la conversione, chiamiamola così, al miglioramento del sistema capitalistico è stata radicale, ma anche sono spuntati di lì, anche di lì, con Grant certamente e con Freisky gli spunti per un sforzo di rinnovamento di un pensiero eccessivamente sbagliato, come il caso di Schroeder dimostra, ecco, o il caso di Breiv, il caso di Breiv segnava poteosi, diciamo, l'Europa fu tutta governata da sistemi cosiddetti socialisti, oggi centro-sinistra, alla fine del secolo, e tutti sono... 13 governi su 15? 13 su 15 e tutto è finito in una bolla di sapone, diciamo così, perché ovviamente non c'era l'attrezzatura culturale, quindi il primo problema che può fare una forza politica per quanto modesta, eccetera, è un problema di rifacimento di una cultura, cioè e questo rifacimento di cultura inizia anche da un ripensamento e da un approfondimento delle questioni del proprio campo, cioè della propria nazione, visto che i partiti sono tutti ancora nazionali, è vero, quindi perché sono nati questi populismi, questi che vengono chiamati populismi, una parola è forza infopia, per un motivo molto semplice, perché vasti strati della popolazione sono stati abbandonati a se stessi dalle forze che avrebbero dovuto difenderli, perché è chiaro che coloro che chiedono di essere difesi non dicono sempre delle cose giuste. Se tu ti metti a condannare la tua gente perché non dice una cosa giusta, la storia dell'esempio classico è Berlinguev e i cancelli della Fiat, perché Berlinguev forse non sapeva che quella era una lotta destinata, sviluppatasi in un modo discutibile e comunque destinata alla sconfitta, non sapeva che la crisi della Fiat era una crisi gravissima, non sapeva benissimo perché è andato lì, perché nonostante gli sia stato consigliato di non andare perché è andato lì, per dire la frase che poi ha detto, che nel bene e nel male se voi decidete una cosa stiamo con voi. Ora naturalmente le rivendicazioni delle forze populiste sono disorientanti, per esempio, perché ovviamente qui c'è un'enorme questione di un certo medio produttivo, chiamavano così, che non paga le tasse. E quindi loro dicono, si mettono dalla parte di quelli che non vogliono pagare le tasse. Ma c'è anche una questione di lavoratori dipendenti, i quali lavoratori dipendenti a un certo punto hanno perso fiducia in una possibilità di trasformazione dell'economia aziendale, ma non sono cose di adesso, sono cose di 50 anni fa, quando hanno incominciato le crisi delle fabbriche e i comitati di fabbrica che prendevano, per esempio in Emilia, andavano alla ricerca di un buon padrone, perché era più capace di gestire le cose nel sistema dato. Quindi c'è un riovientamento dei cervelli. La frase, Berlusconi ha tanti soldi, ah ma se li hai guadagnati, ne frega niente come li abbia fatti. Si è fatto da solo. Si è fatto da solo, ecco, quindi questa mentalità, indica un riovientamento dei cervelli, crolla il paese che avrebbe nell'immaginario popolare dovuto significare, non solo nell'immaginario popolare, nevamente di tanti nostri vecchi compagni, e confeso onestamente parlando Togliatti, il socialismo era incominciato. Quando questo crolla, crolla un edificio spirituale, diciamo così, che è costruito dentro tante persone, è vero? Quindi è qui che si deve ripartire dalla comprensione dei motivi per cui altre forze sono nate, che sono criticabili, ma i motivi ci sono, non è che questi spucano per la cattiveria dell'uno o dell'altro dirigente, insomma, ecco. La contrapposizione tra nord e sud, impersonata da Bossi, no? È una contrapposizione che era delle cose, siamo stufi di pagare per quelli là. Questa era una questione. Ora, era giusto o ero sbagliato? Era sbagliato. Ma come si fa a combattere una cosa sbagliata? Dicendo una cosa più giusta? È una cosa che siamo in grado di capire quelli lì, eccetera. Ora, quindi, ora io quello che vedo poco è la prevalenza di un pensiero tattico, tatticistico, come facciamo questa elezione, come ci prepariamo, con chi andiamo, come stiamo. Tutte cose anche figurate, io capisco benissimo, sono cose giuste, ma se si vuole una rinascita, bisognerebbe fare uno sforzo, chiunque ne abbia la possibilità, da chiunque parte, e poi convergeranno questi sforzi per un'analisi nuova della società che ha, e poi della società digitale. Perché è chiaro che ci troviamo di fronte a un fenomeno che da una certa parte è sconvolgente, perché il fatto che tu puoi provare con uno dell'Australia in tempo reale è una cosa mai vista al mondo. Però che cosa vuol dire questa capacità, dal punto di vista effettuale, che dietro a ciascuna console, diciamo, ci sta una persona, e ci sta una persona con i suoi pregiudizi, diciamo, buoni o cattivi che siano, a seconda del giudizio che si dà, eccetera, con i suoi pregiudizi, con la sua cultura, con le sue cose, eccetera. Quindi è una società atomizzata, è una società liquida, dice il famoso, è una società atomizzata. Questi atomi cercano di rapatumarsi per convergenza di similitudine, no? Ecco, io faccio un esempio dei peggiori delinquenti, che magari una volta erano isolati dalla loro delinquenza e adesso si possono ritrovare come potenze mondiali. Le criptovalute sono un sistema per evitare il fisco. Non c'è più i paradisi fiscali, solo, che nessuno combatte, meno una volta la Mefkel e Macron, credo, che hanno detto qualcosa, ma nessuno combatte i paradisi fiscali perché fa parte del sistema. Adesso fa parte del sistema anche la criptovaluta, una cosa che serve a alimentare lo scambio illegale, eccetera. Quindi voglio dire, senza un'analisi, di liquidità, dice facciamo la lotta, nel nostro programma c'è la lotta contro le revisioni fiscali, dice scusate, ma c'è la lotta contro i paradisi fiscali, c'è la lotta per la regolamentazione delle criptovalute, faccio degli esempi banalissimi, ecco, ecco, gli artigiani sono i principali evasori, ho capito, ma che cosa improponiamo noi agli artigiani? Che una volta, con il quale una volta abbiamo costituito la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ma perché sostenevamo, non certo l'evasione fiscale, ma le rivendicazioni di uno strato decisivo per tanti aspetti, ecco, e così via, e così via. Per la classe operaria abbiamo creato, è stata una legge di un eletto, diciamo, di un eletto del centro-sinistra che ha creato il fecaviato, diciamo, che ha aperto le porte. Ma adesso noi ai fecavi cosa gli andiamo a dire? Vi diamo il posto sicuro? Come vi diamo il posto sicuro? Come si fa? Nelle aziende elettroniche, eccetera, non esistono ferie, non esiste il contratto di lavoro, non esiste niente. Dice, vabbè, se non ci sei tu c'è quell'altro, chi se ne frega, perché ormai tutti sanno, a me non ho il vecchio, io, vecchio, ma insomma, persino io maneggiare la baracca lì. Capisci? Quindi è questo che manca, una attenta analisi. Ora ce ne sono tante, bisogna studiarle molte, ecco. Cioè, il lavoro che è un lavoro anche teorico, diciamo, perché anche su molte parole nostre, naturalmente la discussione è aperta, non può essere chiusa perché non possiamo fare una colpa ai nostri padri, noi i nostri padri li dobbiamo difendere, ma erano i nostri, non è che i padri erano padri che andavano bene. Il fatto di Bevinguer intanto può essere impugnato in quanto che, essendo un uomo del suo tempo, ha cercato di guardare lontano, quando diceva il congresso di futurologia, voleva dire quello che poi in parte ha detto, insomma, pensiamo all'ambiente, pensiamo a queste cose nuove, pensiamo alla rivoluzione, a lui non c'era ancora rivoluzione digitale, c'era però, incominciava quella elettronica, incominciava appena e già la vedeva. Noi dobbiamo essere, non quindi adoratori del passato, difensori, perché queste erano brave persone che hanno sacrificato la vita, eh, intendiamoci per molti di questi, ah, ma perché, non so, Dozza era uno stalinista, ma è stato un grande sindaco a Ciclottaccio, un grande sindaco, qualcuno dice socialdemocratico, va bene, socialdemocratico, va bene, l'ha fatto bene per Bologna, tant'è che l'amministrazione è andata avanti tanto tempo, fatto, e ancora oggi si ricorda, Bologna è una città abbastanza ben amministrata e così via, ecco, ma questi, però, detto questo, noi dobbiamo farci capo, voi, giovani, dovete farvi capo delle vostre responsabilità, in parte imparando da questi figli, da dedizione, per esempio, io adesso ho la storia della dedizione, diciamo, ah, vabbè, ma io sono erano, insomma, la dedizione è una cosa utile, si alimentava anche, lo diceva Gramsci, di cose sbagliate, come il fatto che il socialismo fosse una cosa fatale, non è fatale affatto, diceva Gramsci, e quindi questo meccanicismo ci danneggia. Ma, insomma, adesso non si alimenta più un fico secco, è giusto non alimentarlo di errovi dogmatici, ma bisogna sostituire a questo altre idee, insomma, anche le idee vanno elaborate. Cosa vuol dire la parola socialismo oggi? Perché il socialismo si intende una cosa collata. Cosa vuol dire la parola sinistra oggi? È una collocazione parlamentare, quindi il Partito Democratico si colloca a sinistra ed è giusto considerarlo una forza di centro-sinistra, eccetera, perché, astrettamente parlando, dovrebbe contraforsi alle forze. Ma sappiamo che la cosa è molto complicata, perché dentro le forze populiste ci sono delle istanze popolari, non popolari negative, nel senso che la gente ne ha bisogno, il fatto che la gente dica, oh, c'è una maggioranza in Italia che è contro le armi, questo essere contro le armi viene dannato da molti, anche a sinistra, dicono che sono contro le armi persone, perché non hanno i valori, ma come non hanno i valori? Se si minaccia, oggi qualcuno finalmente ha detto, del gas non possiamo fare almeno, ma allora se non possiamo fare almeno del gas? Pensiamoci bene a fare queste follie di una guerra permanente, chissà quanto tempo durerà, ma poi quanto tempo durerà, chissà come si sviluppa, ma come si sviluppa, ci hanno i mezzi figli. Ringraziamo Aldo, grazie di questa bellissima conversazione che pubblicheremo sul nostro sito di articolo 1 e grazie per l'impegno, l'esempio, il rigore morale e intellettuale di un altro. Grazie, grazie a voi, per carità, grazie a voi, grazie. A voi e cercate di fare per il meglio. Grazie. Grazie.